Musica Mi presento, sono Giovanni Tommaselli, sono un infermiere che lavora... Un infermiere? La maggior parte, 90%, sono un infermiere che lavora presso l'azienda ospedaliera Rumbo di Benevento. E sono il segretario territoriale Sagno Ilpigna di Benevento ed Avellino. Anche per me è la prima volta con questa organizzazione sindacale, la FSI USAE, a presentare le liste presso le due province che vi ho appena detto. Anche se è la quinta volta che mi presento come componente RSU. Prima di iniziare a parlare, perché oggi la riunione e il Consiglio nazionale è pertinente alla RSU, sulle votazioni della RSU, volevo fare un ringraziamento particolare ai segretari nazionali, soprattutto ad Angelo che mi ha chiamato e mi ha messo nella lista per parlare, ma soprattutto a lui perché per la questione che prima è stata detta dal segretario nazionale sulla questione della Maugeri. La questione della Maugeri è stata una battaglia dura da affrontare e Angelo che a livello nazionale, praticamente a Pavia, dove c'era i massimi lavoratori della fondazione Maugeri, ha portato avanti. Ha portato avanti portando questa situazione caduta su tutte le altre 20 strutture, perché sono 21 le strutture a livello nazionale, con grande merito, perché grazie a lui sulle strutture a scalare si sono avute riconoscenze a questa organizzazione sindacale, alla FSI, alla Federazione Sindacale Indipendenti. Su questa cosa noi stiamo avendo un problema che io già ho raccontato ad Angelo, presso la fondazione Maugeri di Telese, perché a livello nazionale è stata fatta una ipotesi di accordo onde evitare il passaggio della parte pubblica economica al settore privato, all'IOP. Per evitare questo è stata fatta un'ipotesi di accordo per rimanere con lo stesso contratto precedente. Cosa ben fatta a livello nazionale, poi portata anche con le varie vittorie, lotte a livello regionale e cose varie, solamente che con un accordo nazionale, con questa ipotesi di CGL, CIS, LEWILL, FIALS ed FSI, dove è stato il promotore a livello nazionale, questa cosa non è avvenuta praticamente in tutte le strutture, particolarmente a quella di Telese, dove io sto avendo dei problemi perché per avere l'effettivo consenso dell'ipotesi di questo accordo ci vuole il referendum, come previsto nell'ipotesi di questo accordo. Solamente che a Telese ci sono sempre i cosiddetti sindacati confederali che vogliono l'immagine, non la difesa dei lavoratori e dunque facendo questo sono partiti loro con un referendum solamente confederale. Noi siamo andati, ho scritto al prefetto, ho scritto comunicati stampa, ho scritto una nota interna che la FSI faceva il referendum in quelle date lì 10, 11 e 12, con Scudini e 13 e praticamente ho prenotato la sala prima di loro e loro ci sono venuti dietro perché sono rimasti frecati, non hanno la sala, stanno chiedendo a noi adesso di partecipare con noi per questo referendum. Dunque questa è stata una bella battaglia sia a livello nazionale, grazie ad Ancelio, sia a livello locale a Telese. E poi volevo ringraziare anche gli altri segretari nazionali, soprattutto anche Michele, perché ogni volta che lo chiamo e lo scoccio lui è sempre presente, nonostante i suoi tanti impegni che è a livello nazionale. Noi ricordo che abbiamo nella regione Campania, nonostante una regione con il piano di rientro, dove c'è anche il blocco della mobilità, il blocco delle assunzioni e del turnover, abbiamo presentato, anche se è un po' in ritardo, ma è stato presentato dall'On. Luca Colasanto il progetto sulla libera professione. Questo progetto è stato presentato ed è fermo alla regione, penso che sarà opera di discussione a metà di quest'anno. Ora entrando nella particolarità della RSU, come vi dicevo io sono 5 anni, è la quinta volta che praticamente mi presento come componente RSU. Ah, volevo fare prima un richiamo a quello che ha detto, e ci tengo su questa cosa, a quello che ha detto il signor Leotta che sta andando via parlando dei vigili urbani. È giusto, è un diritto praticamente il donatore che può andare in alcuni periodi dell'anno a dare il sangue per le persone bisognose. Però è anche giusto, io mi ci metto come sindacalista, io continuo a fare l'infermiere dopo 20 anni, nonostante mi è stato proposto più volte di fare la posizione il coordinatore, perché io ci metto la faccia con i lavoratori, non prendere un congetto sindacale il 31 dicembre, non prendere un congetto sindacale il 1 gennaio, non prendere un congetto sindacale il 14 agosto. Questo è importante. Qualcuno dice che ti metti malattie? Sempre, io sono in perenne malattia, è difficile, per fare il segretario territoriale, figuriamoci quello nazionale, è difficile mettersi in malattia, si va al lavoro per non perdere il contatto con i lavoratori. Noi come federazione sindacati a livello territoriale siamo cresciuti, io vengo da un'altra realtà sindacale che qualcuno di voi conosce bene, e devo dire la verità che grazie a questa mancanza di verticalismo e di scalato per arrivare a parlare col segretario nazionale, mi è più facile avere delle informazioni e trasmetterle in tempo reale, dunque questa è una questione fondamentale ai lavoratori. È una cosa importante, è importante avere il contatto con la segreteria nazionale ed è importante anche capire qual è la politica sindacale a livello nazionale per trasmetterla poi a livello locale. Noi siamo entrati nella sanità come eravamo prima con l'altro sindacato ma ci stiamo allargando a 360 gradi anche nella scuola, negli antilocali e stiamo facendo iscritti anche in altri lavori con lavoratori interinali e altre strutture. Abbiamo presentato le liste, ah e su questa cosa vi voglio raccontare questa cosa, tre anni fa si sono fatte questa RSU, dopo la maggior parte dei componenti RSU sono della CGL, della CISL e della UIL ovviamente e in questa RSU l'80% della RSU è composta da posizioni organizzative o da coordinatori. Io ho fatto una lista per sceltasi di segreteria senza posizione organizzative e senza coordinatore, ci ho messo la faccia, ci ho voluto mettere la faccia per spiegare loro che a mio avviso c'è un conflitto di interessi, è un conflitto di interessi perché chi firma una posizione organizzative, anche se non è previsto dalla legge, anche se non è previsto dalla legge perché non sono dirigenti come per il 360 e tutte quelle cose lì, sono d'accordo, ma secondo me chi firma un contratto fiduciario con il datore di lavoro non può avere compiti di salvaguardare il lavoratore perché non si può mettere con colui che gli ha dato un incarico fiduciario. Questo è il principale... Non mi interessa, io l'ho fatto nella mia... Anzi ti dico questo, anzi scusami dopo se vuoi ribadire, ti dico anche questa cosa, la RSU dopo tre anni che è stata fatta, tre anni fa, il 90% era composto da posizioni organizzative e da coordinatori, il direttore generale, l'unica sua frase che ho apprezzato in tre anni di questo direttore generale dell'azienda, appena si è insediato dopo due incontri con le organizzazioni sindacali, ha detto ragazzi o scegliete di fare i sindacati o le posizioni organizzative e i coordinatori, da quel momento non si è fatta più una riunione RSU nell'azienda ospedaliere, nell'aslo di Benevento, da quel momento non si è fatta più una riunione RSU e dunque o la poltrona o il sindacalista. Dunque in quel momento, io spero, spero, non abbiamo ancora la visualizzazione delle altre liste, che si siano candidati di nuovo perché così questa volta li faccio uscire su tutti i giornalini locali. Come vi dicevo noi ci siamo, è la prima volta con la FSI, abbiamo tutti gli strumenti, non i soliti strumenti che qualcuno conosce che è il classico evento formativo che si fa quel giorno, ma io da quello che ho sentito sono strumenti importanti, sono strumenti non per, tra virgolette, comprare, ma per poter fare davvero proselitismo sindacale con i lavoratori. Ringrazio e scusate se vi ho portato via qualche minuto. Grazie. Grazie. Grazie.